Ho scoperto che gli dèi dell'Olimpo esistono davvero e che a volte hanno dei figli con gli umani, i cosiddetti mezzosangue. Siamo più o meno come tutti gli altri, ma con qualche considerevole differenza. Viviamo nell'unico posto che è sicuro per quelli come noi. O almeno lo era. Chi può averlo fatto? Rono, il re dei titani. Padre degli dèi, distruttore dell'Olimpo. Luke! Pare che tu non sia l'unico mezzosangue difficile da uccidere. Farò risorgere Crono e gli dèi dell'Olimpo conosceranno la morte. Tutti i semidei verranno uccisi nell'arco di qualche giorno. Per la nostra salvezza ci servono i migliori, i più forti e i più coraggiosi. Dobbiamo fermarli. Mi serve il tuo aiuto. Controllo l'assicurazione sanitaria e faccio i bagagli. L'unica cosa che ha il potere di salvare la nostra casa è il vello d'oro. È nel mare dei mostri. Oh mio Dio. Quello che gli umani chiamano triangolo delle bermuda. Prenderemo il vello. Voglio aiutarvi. Ecco. Foschia. Fa apparire normali le creature mitologiche. Sarà un'impresa. In acque inesplorate e mortali. Con in gioco la nostra sopravvivenza. Svita il coperchio e libererà i venti dei quattro angoli della terra. Che cos'è? Il luogo in cui dobbiamo andare. Dimmi che quelli non sono squali. Non sono squali. Non ci deve essere peggior modo di morire. Dobbiamo andarcene da qui. Percy, se Crono torna al potere, è la fine. Troveremo il vello. Lo prendo io. Io non credo. Attento! Percy! Crono torna al potere, è la fine.